Uno sciopero previsto per il 12 aprile. A farlo saranno i dipendenti della Olicar, dei presidi ospedalieri dell'Aquila, Vezzano Sulmona e Castel di Sangro. Ad annunciarlo sono stati sindacati. Neanche l'impegno assunto in prefettura il 15 marzo scorso, finalizzato a regolarizzare l'erogazione degli stipendi entro il 25 marzo, scrivono i sindacati in una nota congiunta, è stato onorato dall'azienda Olicar. La Olicar, lo ricordiamo, è l'azienda S.P.A., che nel gennaio 2013 è subentrata nei servizi di manutenzione di tutti i presidi ospedalieri della provincia dell'Aquila, imponendo ai lavoratori, unit lateralmente, il contratto dei multiservizi, al posto di quello precedente dei metalmeccanici, che come si sa, economicamente era molto più vantaggioso. Da tre anni, dunque, impiega circa 100 lovaratori, ma, da più di un anno e mezzo, sottolineano le organizzazioni, li fa penare ogni volta che li deve pagare. Le mancate risposte della Olicar e le mancate prese di posizione della direzione della ASD, scrivono ancora, hanno pertanto portato i sindacati e le RSA a proclamare una giornata di sciopero in programma il 12 aprile e contestuale blocco degli straordinari e dei cambi turni su personale in ferie, fino a nuova comunicazione sindacale. La giornata di sciopero inizierà alle 6 del giorno 12 e terminerà alle 6 del 13 per i turnisti, i giornalieri invece si asterranno dalle 8 alle ore 17 del 12. Saranno garantiti i servizi essenziali ai cittadini, come da previsione di legge. La Olicar sostengono i sindacati a in gravi difficoltà finanziarie e non è un caso che da tempo è in trattativa con altra società per essere venduta, ma i lavoratori perché devono pagare il costo della crisi finanziaria, anzi del dissesto aziendale dopo aver subito anche le decurtazioni dei salari per il cambio del contratto? Bisogna ricordare inoltre, concludono i sindacati, che ci sono alcuni nodi sulla sicurezza dei lavoratori che la Olicar non ha mai risolto. Alcuni lavori dentro gli ospedali vengono svolti senza il rispetto del decreto legislativo 81 del 2008. Ma è possibile? Si iscrivono ancora alla Olicar, succede anche questo. Negli ultimi 18 mesi, per ben 4 volte, i sindacati e le RSA sono stati costretti a ricorrere alla prefettura dell'Aquila in altrettanti incontri. La Olicar si è impegnata a regolarizzare ogni stortura denunciata, ma sebbene la prefettura stessa avesse richiamato all'ordine la Olicar attraverso la sottoscrizione di puntuali verbali, la società sistematicamente ha disatteso gli impegni, vanificando anche l'accordo ultimo che la Confindustria ha sottoscritto in sede prefettizia, in nome e per conto della Olicar, sul pagamento delle retribuzioni del mese di febbraio entro il 25 marzo.